Ormai è partita la campagna per riscuotere il dovuto in tutta la città. Il recupero complessivo è circa un miliardo che noi ci proponiamo di recuperare nell'arco di dieci anni. I primi dati di questi giorni sono circa 250 mila persone fisiche che sono state accertate come mancate entrate per un valore complessivo di circa 150 milioni e sono invece quasi 50 mila le persone giuridiche, cioè le società o i negozi, per un valore di circa 100 milioni. Per tutti coloro che vogliono mettersi in regola mettiamo a disposizione una serie di opportunità. Innanzitutto mettendo a disposizione un servizio di accoglienza molto ampio, non solo gli uffici centrali della società che ha l'incarico, ma anche in tutte le municipalità abbiamo aperto degli sportelli dedicati in maniera che ciascun cittadino possa recarsi. Secondo luogo attraverso forme di rateizzazione. Terzo luogo avere finalmente ciascuno di fronte il quadro complessivo della propria situazione. Questo aiuta molto. C'è un ulteriore intervento che stiamo mettendo a punto che è quello invece di un bonus per coloro che hanno pagato tutta la Tari dello scorso anno. Quindi questo è un ulteriore incentivo a pagare perché chi pagherà quest'anno pagherà meno il prossimo. E ci auguriamo quindi che la risposta dei cittadini sia una risposta cosciente perché noi abbiamo bisogno di implementare i servizi, di migliorare la qualità della vita e ci servono anche queste risorse. Grazie. Grazie.